Uguale 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 Juventus uguale 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 Scesni 6.5 Un solo intervento, a inizio gara, sulla velenosa punizione di Ali Adnan, risponde presente. De Sciglio 6.5 Ottima gara, sia in fase di contenimento, sia in fase di spinta. Nel primo tempo è protagonista di un paio di ottime sgroppate che mettono paura alla difesa dell'Udinese, Rugani sei attento ed efficace sulle rare sortite offensive dell'Udinese. Gara senza sbavature. Chiellini 6.5 Ordinaria amministrazione per il centrale bianconero, Maxi Lopez e Perica non lo impensieriscono mai. Asamoa 6 si conferma ben più di un'alternativa. Solito contributo in fase di spinta e ripiegamento, fa partire l'azione del terzo gol bianconero. Marchisio 6.5 Fosforo e qualità al servizio della squadra. Imposta le azioni bianconere con eleganza ed intelligenza, sfruttando i ritmi bassi che spesso caratterizzano il match. Che dire se il centrocampo dell'Udinese si disinnesca dopo pochi minuti e la sua gara è subito in discesa. In totale controllo. . . . . Dal sessantaduesimo minuto Matuidi 6. Solito moto perpetuo in mezzo al campo ma la gara è già in archivio. Sturaro 6 non fa mai mancare il suo contributo in termini di grinta e fisicità. Sufficienza piena al netto di qualche appoggio sbagliato di troppo. Douglas Costa 7.1 Degli uomini più in forma nello scacchiere di Allegri. Accelerazioni mortifere e tocchi di qualità illuminano la sua gara. Sempre più importante. Dall'88 minuti Bentancur SV di Bala 7.5 chirurgico e letale. La punizione è un vero e proprio capolavoro balistico. Il tapping sul secondo gol manda la gara in archivio già al 49esimo minuto. In mezzo tante giocate di qualità e ottimi spunti in velocità che confermano il suo recupero dal punto di vista fisico. L'argentino può essere la vera arma in più del rush finale bianconero. Iguain sei troppo frenetico, soprattutto dopo il rigore sbagliato che, in qualche modo, condiziona la sua gara. L'assist per il raddoppio di Di Bala è splendido e conferma ancora una volta la sua qualità, anche come rifinitore. 73 minuti Mangiukice SV, All, Allegri 6.5 la sua Juve è matura, cinica e affamata. Gara non esaltante ma porta a casa altri tre punti, gli ennesimi. Uguale 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 Udinese uguale 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 bizzarri 6.5 Un rigore parato e uno splendido intervento su Di Bala che nega la gioia della tripletta all'argentino. Soccombe ma non affonda. Angella 4.5 gara da dimenticare, non riesce mai a reggere l'urto dell'attacco bianconero. Al diciannovesimo minuto interviene duro su Iguain, un invito a nozze per il mancino di Di Bala. Al trentaseiesimo minuto il suo fallo sul fantasista bianconero costa il penalty ma questa volta viene graziato da Iguain, sofferenza costante. N-U-Y-T-N-C-K 5.5 la difesa dell'Udinese e fatica a registrare i movimenti degli avanti bianconeri. Lui non fa eccezione, macchinoso e in difficoltà, Samir 5 Douglas Costa lo punta spesso e il risultato è sempre lo stesso, saltato. Voltare pagina. Widmer sei qualche buono spunto in fase di spinta ma non è di certo la sua giornata migliore. Barak 5 scompare progressivamente dal campo. Troppo timido di fronte all'attacco bianconero. Dal settantesimo minuto Balik 6 discreto impatto, ma la gara è già segnata, Berami 5.5 gara di fatica e sofferenza. Non al meglio, dal settantaseiesimo minuto De Paul S-V-F-O-F-A-N-A-S-A è l'unico a salvarsi del centrocampo friulano, ottimi strappi e grande fisicità al servizio della squadra. Adnana 5.5 parte bene, impegnando severamente Scesni. In fase difensiva, però, pecca in più occasioni, subendo le accelerazioni di Costa e De Sciglio, ilunga NKTO 5.5 ottimo avvio, con un'accelerazione che costa la munizione a Chiellini. Cala alla distanza. Maxi Lopez 5 impalpabile e inconcludente, dal sessantunesimo minuto per Ika 5.5 non riesce in alcun modo a dare una scossa, all, Oddo 5.5 quarta sconfitta consecutiva per la sua squadra. Non accadeva dal settembre 2015. Serve un cambio di passo. Grazie a tutti.